Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi dell'innovation manager o e-commerce manager o comunque una figura professionale all'interno delle nostre aziende che ci tenga al passo con i tempi. Perché secondo me oggi è obbligatorio averla? Perché a differenza di una volta la velocità dei nuovi mercati e dei nuovi prodotti è diventata veramente impossibile da reggere. E perché ci vuole una persona che ci segua e che ci dia una mano in questo? Perché cogliere prima di altri o magari in maniera più professionale di altri alcune opportunità può aiutarci a vincere in un mercato nuovo. Comunque per qualsiasi cosa contattatemi. Ciao e grazie a tutti!